in quattro flash, ve li leggo, comunicatività, punto, spiccata identità, punto, lirche oscure metropolitane e contemporanee, punto, senso del più, si aggiudica la tredicesima edizione di musica da bere, lo dico? Miglio! Miglio! Miglio è la lucidrice di musica da bere 2022, un applauso! Grazie, giuro, miglio! Miglio! Ho detto due secondi paio, sono un po' stacca! Grazie! Comunque io sono di Brescia e quindi questa è la mia città, sono comunque felice del nazionato, però non me la scontravo per niente, però voglio ringraziare Antonio che ha suonato con me ieri, Antonio del Donno, per favore un applauso, anche a lui e a Gabriele il mio fonico ieri e a voi, musica da bere, Alfredo, con i 400.000 vocali, grazie! Complimenti ancora! Questa posso verla adesso? Questa è subito, la che sta a fare insieme a tutti qua nel parco! Complimenti ancora! Miglio, vincitrice di musica da bere 2022, un applauso!